Buongiorno, sono Tiziana Franco, docente di Storia dell'Arte Medievale presso il Dipartimento Cultura e Civiltà e in questo dipartimento sono anche responsabile della didattica che fa riferimento al dipartimento, in particolare ai corsi di laurea dell'ambito di arte, lettere e comunicazione. Ecco, proprio per i corsi di laurea che fanno riferimento al nostro dipartimento è importante la sede, la città in cui si viene a studiare. La città di Verona è estremamente ricca di opportunità, come opportunità culturali, ma anche per la storia della città, che è una storia stratificata nel tempo, con testimonianze che vanno dal periodo preistorico al periodo romano medievale fino ai giorni nostri, con una continuità che diventa un vero e proprio laboratorio di riferimento per chi studia a Verona. E molti degli insegnamenti dei nostri corsi anche usano davvero la città come laboratorio con attività seminariali, con uscite didattiche, ricordando come i monumenti e le opere in sé sono dei documenti che vanno letti e compresi in presa diretta.